Musica Musica Torna sabato 13 luglio, calici alla non edizione. Esattamente, un grande classico che si ripropone quest'anno i giorni 11 e 13 luglio. Partiamo appunto il giovedì sera con l'anteprima calici, dove avremo un convegno a partire dalle ore 18 e 30 sul tema delle prospettive del turismo enogastronomico in collaborazione con il Festival Vermouth e Alchemica. Poi un concerto di musica classica a partire dalle 21, un concerto di pianoforte con il duo Fuga dalle 21, con un grande brindisi finale con tutti i nostri ospiti e infine la giornata del 13. Grande classico calici con un bellissimo concerto, la consueta possibilità di degustare vini locali e prodotti di nicchia del territorio, in tutto contestualizzato in quello che è il nostro Festival della Reciprocità. Ormai da anni lavoriamo in questo senso, lavorando con i comuni di San Giorgio Canavese e Castellamonte. Calici è contestualizzato in questo ambito. Quest'anno avremo come ospite il nostro direttore artistico del Festival, che è Pupone Carabrese, conduttore di linea verde su Rai 1. Quindi, insomma, una bella serata che speriamo di poter condividere con i tanti ospiti che spero vogliono venire a trovarci. Presentata in Sala Consigliare la nuova edizione, quella 2024, dei Calici, tante novità, ma andremo poi a approfondire in un'ulteriore intervista in studio. Tanti produttori comunque, partiamo da qui. Beh, tentiamo nei limiti degli spazi consentiti di aumentare il numero dei produttori vitivinicoli, degli chef, dei produttori, dei trasformatori agroalimentari, per continuare a dare anche piccole e grandi novità e soprattutto far scoprire ulteriormente a chi fluisce di Calici, che tendenzialmente siamo intorno ai 1.500-1.600 persone, nuove cose da degustare, nuovi mondi da scoprire dal punto di vista enogastronomico. Una piccola anticipazione, quest'anno, anteprima Calici, sarà il giovedì e non il venerdì. Sì, per una semplice ragione, chi lavora tecnicamente, cioè chi ci mette le braccia per organizzare e allestire gli spazi, come dire, lo fa in maniera volontaria e concentrare, fondamentalmente concentrare il venerdì e il sabato per arrivare poi all'allestimento e poi vivere la serata di Calici è un'impresa abbastanza enorme. Quindi da quest'anno abbiamo deciso di saltare un giorno, ossia anteprima Calici con il convegno e un concerto di musica classica serale, giovedì 11 luglio e la grande serata, come al solito, sabato 13 luglio, con apertura dell'area degustazioni e spettacolo alle ore 19.30. Tantissimo cibo, tantissimo vino e quest'anno, finalmente, questo lo dico perché sono dei cari amici, il grandissimo concerto del tour estivo dei Blue Beatles.